Allora, mister Napoli oramai oltre le sue capacità è diventato un vero e proprio talismano 3 su 3 prima di analizzare la partita questa curiosità, si vince sempre Lasciamo stare, questa è solo una pura e semplice coincidenza, quindi parliamo della partita Allora mister, parlando della partita, è la partita proprio con il cuore, la grinta, la cattiveria, l'organizzazione perché oltre a queste componenti c'è stata anche la testa, una vittoria, un'altra vittoria da 6 punti Sì, è stata una partita importante, una vittoria importante, ottenuta su un campo difficile contro una squadra ben organizzata, ben messa in campo e con elementi di valore soprattutto lì davanti quindi una partita a questo punto del campionato non dico fondamentale ma molto molto importante e pesante Con le grandi squadre, se così possiamo passare il termine per la categoria almeno si vedono quando sanno soffrire e sfruttano le occasioni che hanno è successo con Corazza, poteva anche fare 2-3 gol, però è questa un po' la lettura della partita? Assolutamente sì, sono d'accordo con te perché sono quelle caratteristiche che in una squadra che punta ad ottenere un risultato finale importante, credo che siano appunto delle caratteristiche che non debbono mancare ed oggi a noi non ci sono mancate, abbiamo saputo soffrire il primo tempo in alcuni tratti, quando dovevamo colpire abbiamo colpito, nel secondo tempo credo che poi la partita l'abbiamo gestita abbastanza bene, abbiamo avuto anche delle occasioni per poterla chiudere non ci siamo riusciti, però va bene così Rimanendo sulla qualità anche della Rosa, il mister e soprattutto le squadre forti si vedono anche dalla panchina, ecco anche questo Novara adesso che ha recuperato tutti i giocatori può mettere in campo delle pedine sempre pronte a ribaltare una partita? Certo, abbiamo recuperato dei giocatori importanti che ci sono mancati nella prima parte di campionato devo dire che abbiamo trovato dei ragazzi che si sono fatti trovare pronti, dei ragazzi esordienti dei ragazzi che non avevano giocato in precedenza, ho giocato pochissimo, però che hanno dato tanto alla causa del Novara, però a questo punto del campionato recuperare dei giocatori importanti di valore che abbiamo avuto fuori credo che sia fondamentale, credo che sia determinante per questa fine campionato Il senatore ha dialogato con Toscano, ci ha aiuto a comprendere meglio i cambi Bianchi che ha dato un grande contributo su Faragò Pesce che aveva speso molto perché era quello che si occupava della guerriglia sul portatore di palle, è stato straordinario veramente a portare pressione Buzegoli? Buzegoli, diciamo che anche lui aveva speso tanto, sta giocando tanto viene da un infortunio molto lungo, anzi pensavamo che magari potesse soffrire anche un po' prima, credo che però abbia tenuto abbastanza bene fino a un certo punto della partita, poi aveva preso pure una munizione in una parte finale di partita dove poteva essere pure convulse dove magari anche l'esperienza di Miglietta, la sua fisicità ci sarebbero stati sicuramente d'aiuto, quindi questa è la lettura sul cambio anche effettuato di Buzegoli con Miglietta Un'altra cosa che mi sovviene di chiedere anche in relazione della gara con la Propatria e che arriva anche ad una serie di messaggi che abbiamo avuto, c'è una gestione pensata visto che tanto non ci ascolta nessuno, sulle ammunizioni eventuali per le squalifiche? No, guarda, sinceramente, dico la verità, no, non ci pensiamo, viviamo di giornata in giornata senza fare troppi calcoli perché abbiamo visto che quando magari fai dei calcoli poi non tutte le ciambelle riescono con il buco, quindi viviamo di giornata in giornata e l'affrontiamo ogni partita senza pensare alla prossima, ecco da domani poi penseremo alla prossima ma senza aver fatto dei calcoli in precedenza assolutamente Possiamo dire che questa è stata forse la migliore o tra le migliori partite dal punto di vista difensivo, il Novara ha sofferto solo su tiri da fuori ma non ha quasi mai concesso palle e gol e forse non a caso arriva dopo la terza settimana consecutiva che facendo gli scongiuri la difesa è un po' sempre quella, senza infortuni che vi costringevano sempre a rivoluzionare lo schieramento al di là del valore di Niccolò che gioca Si, si, ci bene, abbiamo tenuto alta l'attenzione per tutti i 95 minuti quanto è stata la durata della partita, sapendo soffrire senza mai perdere la testa, leggendo le situazioni a volte bene, a volte magari meno bene però poi arrivandoci con la voglia, la determinazione è la cattiveria